il lago di piazza matteotti non è un luogo turistico ma sono le pozze che si formano quando piove come vedete le auto affondano in queste buche piene d'acqua e chi parcheggia qui deve rimboccare i pantaloni ovviamente come potete immaginare la gente non è mica tanto contenta perché ci vuole un scolo lei ce l'ha una canoa per attraversare il fiume no con quello che si paga il canotto per rientrare in macchina quasi ci sono due o rimettono a posto il parcheggio quindi tolgono questi avvallamenti queste buche oppure mettono a disposizione degli utenti dei pedalò delle canoe questo sarebbe si riesce ad arrivare un po scomodo immaginiamo se ci fosse una persona disabile con una carrozzina diventa abbastanza complicato ecco adesso come fa a salire signora è difficile le aiutiamo teniamo poi le chiudiamo noi lo sportello forza signora ha portato la maschera da sub può fare snorkeling è vero un po di sinastica in bicicletta o a piedi bisogna venire ormai che cosa sta facendo le foto dei monumenti riflessi nelle pozze nelle pozze cioè praticamente a vicenza in piazza matteotti ci sono delle pozze talmente grandi che sono dei laghi su cui i turisti fanno le fotografie dei monumenti riflessi qua bisogna parlare con il comune non ci andiamo a parlare noi con il comune molto bene ma ancora meglio lanciamo un appello alle autorità competenti speriamo che facciano qualche cosa fate qualche cosa per migliorare il parcheggio in piazza matteotti per eliminare le pozze d'acqua inutile è inutile ci creda signora no 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 non ci credo più no non si demoralizzi no 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 non cambierà mai niente peggiorerà parcheggio bagnato parcheggio sfortunato almeno in questo caso e allora noi porteremo le istanze dei cittadini alle autorità competenti perché si risolva una volta per tutte questo problema insomma per noi la questione non finisce qui ma continua